C'è il tema di istituzioni private, finanziarie, c'è tanta gente ricca. Guarda, io mi è successa una cosa l'altro anno, mi è successa una cosa per rispondere a questa domanda. Sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano gli 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. Adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui perché si dice off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse senza nemmeno la connessione internet che voi direte per un'azienda internet. Però di fatto è stato molto interessante, vi domanderete anche tu che centravi fra quelle 80 persone. È una domanda intelligente, io me la sono fatta per primo questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola cultura popolare, pop italiana avanzata secondo loro, ovvero non che rappresentasse la tradizione ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro che ha durato quattro giorni è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si traduce in Italia, amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, una delle più importanti femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno, neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale, c'era il... Questa cosa qui non vuol dire che politici... Perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa. Perché non servono, hanno detto loro. Nel senso che in questo ambito, in questo ambito, la politica non è importante. Noi, qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, eh? Non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa. Dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. Non le fa più la politica. Una volta le faceva solo la politica. Poi a un certo punto le ha fatte insieme. E poi non le ha fatte più. Non le ha fatte più. Perché? Perché la politica cerca consenso. E cercando consenso, sbagli sempre. Se tu cerchi consenso, sbagli sempre. Se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno, devi dargli una gratificazione immediata. E la gratificazione immediata è quasi sempre un errore. Perché la politica è visione, no? Per me. Perché in una canzone dico, il tecnocrate di turno è quello che ci fotte, no? Perché il tecnocrate non ha visione. Il tecnocrate sistema le cose in quel momento. Lì ha una visione breve. Le cose, no? Fai conti. Fai conti in quel momento. La politica, invece, è quella che ha la visione. E la visione qual è? Avere un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato. E come si fa? Si fa così. Questo è il primo passo. Qui scontentiamo questo qui. Qui qualcuno si arrabbierà, però poi dopo ritornerà, perché comunque si renderà conto che abbiamo fatto bene. E quest'oggi la politica non è più in grado di farlo. Perché se la politica si fa in televisione, è chiaro che è difficile, no? Quindi chi la fa? La fanno altri. Grazie al cielo, non è disperato il mio discorso, è che grazie al cielo la fanno altri. Le visioni ce l'hanno altri. C'è gente che ha delle visioni, ce ne sono un sacco. Ci sono un sacco di persone che hanno le visioni. Ci sono gli economisti, ci sono gli amministratori delegati, ci sono anche semplicemente gli agricoltori e poi ci sono gli artisti e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé. Pensate cosa sta diventando l'agricoltura, il biologico nel mondo, quanta gente sta svoltando, quante aziende stanno nascendo che poi svoltano la propria esistenza. Io mica dico solamente che bisogna fare delle grandi industrie, anzi il futuro è proprio iperframmentato, è come nella musica, no? Una volta nella musica c'erano i grandi flussi, no? C'era il rock, c'era questo, c'era questo. Adesso la musica è diventata. Se voi andate a un festival rock, una volta c'erano tutti i cantanti di uno stesso tipo un giorno, il giorno dopo tutti quelli di uno tipo, andate oggi, c'è tutti, tutti lo stesso giorno. Un DJ, uno acustico, uno con la fisarmonica, un altro che balla la samba, uno che viene da lì che è africano, un africano che fa il rock, un DJ che fa la classica. Cioè questa cosa qui è la contemporaneità. E noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui, che ha degli aspetti meravigliosi, però non scherziamo. Cioè io in quei quattro giorni lì, ascoltando questa gente parlare, mi sono uscito entusiasta comunque, entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare. Gente che veniva dal niente, per esempio moltissimi africani. L'Africa è un paese, è un continente che si sta cambiando tantissimo, si sta evolvendo anche economicamente. Ci sono alcuni dei più grandi architetti del mondo che vengono dall'Africa. Uno non ci, sembra, sembra quasi una battuta, no? E niente, quello che era interessante lì, chiedersi è, e l'Italia? Che facciamo noi dentro questa roba qua? Chi siamo noi? Mi domandavo. Non c'erano molti italiani lì dentro? C'era Giovanotti? C'ero io, però c'ero io forse anche un po' da imbucato mi comportavo, nel senso che sì, evidentemente se c'ero, un motivo c'era, però ecco, e la domanda rimane aperta. L'Italia, e l'Italia, l'Italia, lì dentro ha uno spazio, secondo me, ce l'ha, ce ne rendiamo conto, e lo spazio penso che sia voi che riuscirete a, è come sempre, non riuscire a farsi forte delle proprie, cioè cercare di capire chi si è e proiettare questo chi si è dentro una società contemporanea, non dentro una società come vorremmo che fosse, ma dentro la società come è, proiettare quello che io vorrei essere. Ti ringrazio molto...